Allora pensavo, che ci faceva Max Pezzali oggi a San Siro? Tu lo sai, tu eri a San Siro oggi? No! No, 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 ci sono delle immagini chiarissime Però so Che dimostra... vediamole, poi vedremo È arrivato Max Pezzali! È arrivato Max Pezzali a San Siro! Ciao Max! A finale su di morale due signore Del Parma! Ciao Max! Ciao Max! No, io ti dico ciao Max! Buongiorno! Ciao Max! Ciao! Complimenti! Eh, ma come mai a San Siro Max? Ma come mai a San Siro Max? Eh, tu che sei interista! Ma sono... Allora è capitato qui! Io ho un parole Grandissimo! Posso solo dire grandissimo Teo perché è veramente geniale Oggi infatti mi avevano avvertito, io stavo seguendo la partita E mi dicevano guarda che di là c'è Teo che distambia... Allora saltavo per vedere questa imitazione veramente troppo grande Però nel frattempo Ronaldo, Vieri e Baggio stanno a casa Purtroppo sì, questo è il lato doloroso del... Eh... E discernile Che servizio